buon pomeriggio con noi siamo tornati in diretta 17 07 buon pomeriggio francesco ancora buon pomeriggio cara francesca buon pomeriggio ancora chi ci segue dopo lo spazio dedicato al telegiornale alle informazioni torniamo in rigorosa diretta per parlare di un qualcosa che a noi fa impazzire abbiamo parlato di turismo e in italia c'è chi fa strettamente del turismo enogastronomico e noi siamo uno e facciamo parte di questa categoria vero eccoci qui e noi adesso ci colleghiamo con stefano cigarini che è l'amministratore delegato di fico di italy world buon pomeriggio buongiorno a voi buon pomeriggio dottor cigarini allora che cos'è l'azienda di cui lei è amministratore delegato ce la racconti fico è il parco tematico del cibo italiano bene è un parco unico in italia e per quanto ci è dato di sapere unico nel mondo un parco in cui gli ospiti possono gustare tutta l'eccellenza del made in italy di questo grande settore che rappresenta l'italia nel mondo fatto di eccellenze di prodotti dopo di gp immaginate un parco in cui ci sono 30 attrazioni giochi padiglioni scientifici fabbriche in cui si imparica e si impara come si fa il cibo padiglioni in cui si scoprono gli elementi base del del cibo divertimento e ovviamente gusto si mangia nei ristoranti negli street food e nei tour degustativi presidente mi permetto di farle una domanda ma c'è l'idea la volontà di magari aprire un altro fico in un'altra città grazie per il presidente finora amministratore delegato lo prendo come un buon augurio ci auguriamo per lei che possa diventare anche presidente allora noi pensiamo che lo sviluppo di fico passerà attraverso delle delle aperture all'estero nel mondo perché un parco a tema del cibo italiano ha ragione di esistere in italia ma tanto più ragione di esistere in nazioni fuori dall'italia che apprezzano il cibo italiano certo pensate che secondo noi fico sta all'italia come disneyland può stare agli stati uniti siamo pienamente d'accordo anche perché un parco giochi proprio enogastronomico ho letto che uno può mangiare in un posto poi un altro può provare varie cucine varie però quello che la domanda da profano anche da guastafeste amministratore è questa io entro lì perché io sono quello che quando va al ristorante ordina sempre l'antipasto e poi fa fatica successivamente non si direbbe ma è così perché esagero con gli antipasti e non solo avendo la possibilità di degustare varie cose come si fa non c'è il rischio che poi uno dice ok sono stato lì sono stato una giornata ho mangiato di tutto non è che posso mangiare fino a sentirmi male certo lei ha due alternative la prima è percorrere consapevolmente il percorso verso l'obesità oppure la seconda che è quella che suggerisco è tornare a fico più volte durante la vita per in qualche modo scoprire proprio tutte le sfumature dei gusti delle che si può delle cose che si possono mangiare a fico pensate io ci lavoro e a tutt'oggi non ho ancora mangiato in tutti i ristoranti street food di fico perché ognuno è un pezzo di mondo un pezzo d'italia immaginate che c'è il ristorante a base pasta quello base pesce a base pitta base patata base tartufo con quello magari con la grande cantina di vino è veramente un viaggio che si può fare in una giornata ma che si può anche fare in più visite progressive a fico certo c'è anche spazio per la cucina internazionale o è soltanto esclusivamente italiana ad oggi no ad oggi esclusivamente italiana ma ci stiamo seriamente pensando soprattutto per i futuri fico ad aprire nel mondo dove ci sarà un cuore italiano ma poi l'apertura ai cibi locali e internazionali quello che le voglio chiedere io è questo amministratore avete dei dati ovviamente davanti a voi noi ci chiediamo spesso se una cucina regionale sia migliore poi è ovviamente relativo rispetto ad un'altra i dati ci dicono che il piatto che piace più agli italiani qual è la pasta lei mi vuole fare litigare con qualche regione italiana no 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 è una curiosità mia personale allora tico è a bologna e devo dire che lì diciamo ci sono alcuni piatti che oggettivamente svettano sugli altri piatti ticipi della tradizione bolognese pensate noi abbiamo dentro nel nel parco un ristorante che si tratta si chiama trattoria bologna in cui viene fatta la pasta in tempo reale i sughi in tempo reale e voi avete delle signore che tecnicamente si chiamano le sfogline che sono quelle che annodano i tortellini che voi poi mangerete da lì a dieci minuti nel loro meraviglia cioè proprio cucinato e mangiato chilometro zero questa del chilometro zero francesca in realtà è una caratteristica di fico grande intituzione dall'inizio e dentro il parco ci sono tredici fabbriche ognina delle quali produce parti del cibo che vengono mangiate negli altri 60 posti quindi mentre io sono seduto al ristorante della pasta sto mangiando sto bevendo la birra che è fatta dalla fabbrica della birra la mortadella che è fatta dal consorzio mortadella e il pane che è fatto dal panettiere lì di fianco e viceversa mentre sono nel bar della birra mangio la pasta che è stata fatta dal pastaio un mercato a chilometro a metro zero a metro zero non si tratta neanche di chilometro qua proprio di metri esatto ovviamente siete un'azienda quindi come azienda avrete anche risentito sicuramente del caro prezzi del caro vita di questi ultimi tempi che succede qual è la situazione allora non solo siamo un'azienda siamo una start up perché immaginate che fico il parco del cibo di bologna esiste da fine 2017 in cui è aperto in un primo formato poi ha chiuso per due anni per il covid e ha riaperto in questo nuovo formato di parco a tema parco divertimenti del cibo una sorta di disneyland del cibo dall'estate scorsa quindi abbiamo di fatto un anno di vita e come prego prego stava concludendo mi scusi e quindi con diciamo tutto il percorso che una start up deve fare anche per affermarsi sul mercato ottimizzare costi benefici eccetera eccetera con un però dal punto di vista energetico un grande vantaggio ovvero che noi disponiamo sopra i nostri tetti del più grande impianto fotovoltaico su tetto d'europa parliamo di 55 mila metri quadrati che danno circa 6 megawatt di potenza e che di fatto durante il giorno coprono l'intero fabbisogno energetico di fico bene ma io ho una domanda proprio che la prima che noi facciamo generalmente ai cantanti quando vengono qui da noi vogliamo chiedere al però io non canterò all'amministratore di cantarci la sigla di fico le posso chiedere qual è il suo cantante preferito semmai è una canzone che non la faremo cantare non si preoccupi il nome fico allora premesso che il mio intanto il mio cantante preferito lucio dalla ma per un semplice motivo affettivo è stato il mio primo datore di lavoro sì io questa ce la deve raccontare però adesso amministratore guardi brevissimamente così io non sono di bologna in questo momento sono seduto nel mio ufficio cine città world a roma che un altro parco che dirigo qui a qui a roma però ho studiato a bologna ho fatto il dance e per la mia tesi di laurea ho intervistato diversi discografici e sono riuscito a intervistare lucio dalla che ho conosciuto per strada gli ho chiesto un'intervista alla fine dell'intervista e lui non mi ha lasciato fare perché era molto più curioso di me lui mi ha detto noi lavoreremo insieme mi scrisse su un fogliettino il suo numero di telefono dicendo chiamami perché noi lavoreremo insieme e effettivamente un mese dopo ero stato assunto dalla sua casa discografica bello bello meraviglia guardi mi auguro anche io io faccio il suo percorso ha fatto il suo stesso percorso di studi anche però amministratore la prossima volta anche per parlare dell'altro parco se vuole noi l'aspettiamo qui in studio anche perché non siamo lontanissimi e vengo molto volentieri anche perché sta per cominciare un periodo bellissimo che il periodo di halloween in cui i parchi sono al massimo del loro splendore e c'è divertimento vero da paura e vedrà anche la nostra azienda se verrà in quel periodo vedrà anche la nostra azienda l'unicusano addobbata per halloween e mi vedrà che è una cosa veramente spettacolare amministratore come mai è stato deciso di stavo leggendo che ci sono varie giostre attrazioni dentro fico come mai è stata presa questa decisione di aggiungerle guardi per questo motivo se io adesso vi invitassi a cena entrambi dicendovi vi porto in un posto dove si mangia bene io penso che riuscirei a portarvi forse a roma forse al massimo al massimo vi porto a ostia proprio se esagero vi porto fino a latina ma se vi invitassi in calabria voi mi guardereste mi dite va sì va bene però insomma 600 chilometri per mangiare un po tanto mentre invece le persone si spostano per fare esperienze per vivere storie e ambientazioni che non trovano sotto casa il fatto di aggiungere giostre padiglioni esperienze uniche è il motivo che sposta le persone che le fa venire dal nord o dall'estero a cinecita world piuttosto che dall'italia le manda a disneyland a parigi o a los angeles a universe astutos certo succede anche nei parchi divertimento lei ne capisce ne sai quindi posso fare questo 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 lancio anche questo collegamento all'estero che all'interno ci siano molti mi passa il termine chioschi dedicati al food uno dei parchi divertimento più gettonati all'estero è il parco di tivoli a copenhagen ad esempio dove all'interno si può mangiare dallo dog alla pizza alla pasta al al waffle insomma ce n'è per tutti i gusti non sarà mai però comunque qualcosa legata al nostro territorio alla nostra cultura alla nostra tradizione lo dico tirando un po la zappa sui piedi nei parchi divertimento di solito non si mangia benissimo si mangia soprattutto junk food e normalmente non sono considerati i posti proprio gourmet migliori e su questo fico siccome non è lui a cucinare non è fico poi rispondo anche alla domanda sul nome che non è semplicemente fico come direi per l'aggettivo fico ma noi abbiamo dentro 60 operatori che sono alcuni dei migliori operatori degli operatori di eccellenza della cucina italiana e quindi ci sono i grandi chef i ristoranti le aziende che producono e che vendono e quindi questo tipo di ricchezza culinaria viene viene in qualche modo trasformata e tradotta tant'è che se per darvi un dato economico visto che siete anche in università noi di 35 euro di per cap cioè di spesa media che viene fatta dentro fico circa 16 sono per il mangiare che è molto più alto rispetto a tutti i parchi tematici o divertimento d'italia e a questa è una tradizione tutta nostra è sì una tradizione tutta nostra è normale è così ma d'altronde potrebbe essere anche questa la nostra forza noi elogiamo l'italia la critichiamo però anche tanto sotto alcuni punti di vista tanti imprenditori raccontano che hanno preferito eh investire non nel nostro paese magari nel sud d'italia piuttosto in altri continenti in altre nazioni in altre città si può ancora investire in italia conviene investire nel nostro paese si può e si deve innanzitutto una cosa eh c'è una grande fame di italia nel mondo io per anni ho lavorato in ferrari ero signor vice president e avevo diciamo come dire presidiavo tutto il mondo entertainment branded experience che in tradotto voleva dire i parchi a tema i musei ferrari eventi eccetera eccetera e forse voi sapete ci sono alcuni parchi della ferrari in giro per il mondo quando io giravo per il mondo per discutere per i futuri parchi ferrari trovavo una un proprio un desiderio una voglia d'italia una stima all'estero che noi non abbiamo di noi stessi noi siamo visti molto meglio all'estero di quanto ci auto vediamo e noi di questa eccellenza dovremmo farci come dire orgoglio e modello di business e non sempre siamo capaci a farlo e infatti in fine anni settanta inizio anni ottanta c'è un'intervista meravigliosa che rimarrà negli annali della televisione di stato fatta all'avvocato Gianni Agnelli in cui Gianni Agnelli racconta che rispetto all'estero noi subiamo noi italiani un po' di sudditanza abbiamo un parere un pensiero legato al nostro paese diverso da quello che hanno le persone che non che non vivono qui certo amministratore vorrei chiederle una domanda vorrei farle una domanda comunque fico si occupa principalmente di cibo io vorrei chiederle come si comporta fico nei confronti del degli sprechi alimentari in particolar modo dell'ecosostenibilità fico nasce con una visione molto alta io non ho partecipato alla fondazione di fico sono stato chiamato in questo ultimo biennio da diciamo dalla pandemia in poi per provare a riprogettarlo in termini più esperienziali la visione molto alta è quella che in italia fu l'origine che diede poi come dire che creò quello che è stato io credo una delle più alte esperienze italiane in assoluto che è Expo Milano 2015 Expo Milano 2015 ve lo ricorderete aveva messo il cibo al centro del dibattito del pianeta l'Italia era il centro del dibattito del pianeta in quel momento e il cibo anche con modello di sostenibilità aveva già intuito ai tempi che le risorse non sono infinite ovviamente oggi ce ne stiamo rendendo conto drammaticamente oggi iniziamo a porci delle domande tipo ma forse l'acqua che abbiamo non basta ma se c'è tre mesi di siccità forse non riusciamo a riempire il rubinetto e le botte ma forse il gas non è sufficiente non scaldiamo le case oggi questo tema della scarsità delle risorse è nell'agenda non lo era 5-10 anni fa Tico ha iniziato il suo percorso avendo in mente proprio questo un parco che fosse totalmente ecosostenibile e che facesse della circolarità del riutilizzo di modelli di comportamento virtuosi il suo dna esattamente come Expo in concreto energia prodotta dicevo prima il parco fotovoltaico più grande d'Italia utilizzo del rifiuto come risorsa noi ci riscaldiamo con il calore dell'inceneritore di Bologna quello che viene chiamato termovalizzatore inceneritore che è oggetto di dibattito a Roma per esempio è oggetto di un dibattito annuso la c'è e noi con quello ci riscaldiamo terza cosa c'è il mercato interno quello che vi dicevo prima ognuno è produttore e consumatore degli altri come nelle civiltà contadine di una volta in cui il bene veniva scambiato prima che essere venduto che un arancio parta dalla Sicilia venga immagazzinato o imbustato in Slovenia e poi finisca in Cina e torni indietro è una stupidaggine colossale di cui ormai tutti sono consapevoli ma non era così 5-10 anni fa e in ultimo noi siamo di fianco al CAB che è uno dei più grandi centri di smistamento che è il centro agroalimentare e noi prendiamo spesso delle derrate alimentari che non passano il controllo della normale distribuzione commerciale le recuperiamo e le mettiamo all'uso e alla disponibilità di tutti faccio un esempio molto banale oggi una mela per andare nel supermercato deve passare il concorso di belletta perché deve essere bella, tonda, senza botti ma una mela con i bozzi è buona o uguale una mela con un petto nero è buona o uguale oggi però non entra nella distribuzione commerciale per motivi estetici e noi la recuperiamo e la diamo a disposizione ai nostri ospiti ultima cosa dentro Fico c'è un vigneto, un oliveto e un frutteto e voi potete fare la spesa dall'albero direttamente senza passare dal via ed è anche una bellissima esperienza Stefano Cigarini, amministratore delegato di Fico Italy World grazie per essere stato insieme a noi grazie mille e a presto l'aspettiamo qui in presenza con noi studio grazie a voi dell'invito e vengo molto volentieri grazie, grazie davvero buon lavoro e viva l'Italia, lasciatemelo lì e viva anche il cibo italiano viva le iniziative come questa anche perché per chi è addiata perennemente purtroppo, come il sottoscritto si avvicina il sabato e il sabato sera si mangia la? si mangia la? pizza si mangia la pizza abbiamo un parterre de roi insieme ad Alessio Tancore e alla nostra redazione ringraziamo la redazione di Annalisa Colavito esatto, ed è arrivato proprio lui io ce l'ho, pensate, davanti a me ce l'abbiamo Thomas Cardinali lo vediamo e tra pochissimi istanti lo vedrete anche voi perché a Roma c'è una mostra meravigliosa dedicata, se parliamo di arte anche perché se non sbaglio i nostri telespettatori ad oggi hanno sentito soltanto la voce di Thomas Cardinali non l'hanno mai visto? qualche volta l'hanno visto qualche volta l'hanno visto quest'estate l'hanno visto a Venezia è andato insomma è stato visto e è andato alla mostra che ci sarà di Van Gogh conferenza stampa questa mattina a Roma e c'è questo video report che fa lui come solo lui sa fare Thomas Cardinali Van Gogh a Roma la mostra inaugura a Roma a Palazzo Bonaparte la mostra dedicata a Vincent Van Gogh un assortimento straordinario di quadri come quello che vedete alle mie spalle l'autoritratto famosissimo dell'artista noi vi portiamo all'interno per scoprire in anteprima quali sono i capolavori che potrete osservare a Roma a partire dall'8 di ottobre Francesca Villanti finalmente domani apre la mostra di Vincent Van Gogh qui a Palazzo Bonaparte uno dei luoghi più suggestivi di Roma prima di tutto perché avete scelto questo luogo e quanto è stato difficile organizzarlo? è come questo luogo perché Siprest è un luogo meraviglioso nel cuore di Roma che ha organizzato già delle mostre meravigliose e quindi è una garanzia anche per i visitatori che sanno che cosa si aspettano e si aspettano di trovare delle mostre serie all'altezza di quello che promettono e la difficoltà ovviamente è sempre quando si organizza c'è sempre un'enorme difficoltà quando si organizza una mostra dedicata a un pittore così ricercato e richiesto in tutto il mondo e quindi sono anni di dura fatica che finalmente vediamo a conclusione Iole Siena siamo qui con la presidente di Artemisia Palazzo Bonaparte una location suggestiva per un artista tra i più affascinanti al mondo Vincent Van Gogh sì, oggi inauguriamo finalmente questa mostra attesissima è una grande mostra è una mostra che racconta tutto Van Gogh la sua vita, le sue opere le sue lettere ciò che lui ha scritto che ha pensato si uscirà da questa mostra conoscendo veramente a fondo Van Gogh quanto è stato difficile organizzare questa mostra? organizzare questa mostra è stato molto difficile l'organizzazione va avanti da circa 5 anni sono tra le mostre più difficili al mondo da organizzare per la complessità dei prestiti per il valore delle opere quindi è una oggettivamente una delle mostre più complicate da organizzare richiede un sacco di tempo con un sacco di maestranze un sacco di professionalità anche quanti sono le opere che troveremo qui alla mostra? sono 50 opere di Van Gogh che è un numero del tutto straordinario mai concesso prima dai prestatori è un numero elevatissimo abbiamo fatto una scelta precisa di esporre solo opere di Van Gogh e non Van Gogh e altri quindi ogni opera è un capolavoro complimenti a Thomas Cardinali tra pochissimo sarà con noi anche perché sarà un blocco il prossimo che durerà mezz'ora durerà mezz'ora ma la sensazione che a noi arriverà e arriverà anche a voi degli spettatori è che avrà una durata di 5-6 minuti perché abbiamo 4 ospiti 4 ospiti in un blocco con Thomas Cardinali che sarà addirittura in studio e Thomas Cardinali sarà diciamo il giudice perché parleremo di arte di spettacolo lui è l'uomo dello spettacolo del Cusano Media Group e quindi parleremo un pochino del giudice quindi analizzeremo un libro analizzeremo una benda abbiamo anche il videoclip la canzone ascoltiamo tutto e Thomas si metterà lì giudicherà e dirà e farà le domande giudicherà anche noi tra l'altro dovete sapere che Thomas Cardinali ieri sera era allo stadio olimpico noi parleremo anche di sport alla fine l'hai detto era allo stadio olimpico eravamo all'inizio e ha detto no no non diciamo dove dove ci siamo incontrati io e Thomas e risiedeva in tribuna stampa ovviamente no da grande inviato qual è io no perché non sono degno quindi mi sono defilato da un'altra parte Thomas Cardinali è venuto addirittura nel mio settore che era adiacente molto vicino a salutarmi abbiamo fatto due chiacchiere e poi tornati dallo stadio Thomas Cardinali mi fa peccato che mi sono prenotato per fare una domanda a Giuseppe Mourinho la Roma ieri sera ha perso con il Betis Sevilla partita meravigliosa volevo fare una domanda a Mourinho mi sono prenotato per primo non me l'hanno fatta fare allora io ho detto a Thomas Thomas che domanda volevi fare a Giuseppe Mourinho ed era una domanda meravigliosa e io qui ne approfitto per dire Thomas Cardinali se non hai niente da fare tu per quanto mi riguarda puoi rimanere meno fino alle 19 fino a Paola Aspi puoi rimanere qui con noi fino all'anno che mi fai notere poi ce la faremo dire anche da lui qual è la domanda che vuole fare a Giuseppe Mourinho certo quindi ce la dirai io chiudo la porta chiave e Thomas rimarrà qui ma toglimi una curiosità è stata una carambata cioè caramba che sorpresa ci siamo incontrati o vi siete messi d'accordo perché neanche a farla apposta sapevamo entrambi che io e lui era lì e poi abbiamo incontrato altri amici tra l'altro Massimo Ciccognani che poi sarà con noi anche lui per analizzare tutto abbiamo le parole di Mourinho che ascolteremo che sono le risposte che ha fatto ad altri non a Thomas Cardinali abbiamo le parole di Nicola Zai penso che dovremmo riprendere Mourinho su questo sì 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 quindi facciamo un appello a Mourinho Mourinho la prossima volta la prossima volta Thomas la domanda lasciategliela fare insomma anche perché se lo merita va bene noi andiamo in pubblicità torniamo tra pochissimo per parlare dello spettacolo del mondo dello spettacolo tantissime cose libro, musica Thomas Thomas musica libro e parliamo di talenti parliamo di talenti e mi raccomando tra poco Suez e mi raccomando e mi raccomando cioè andiamo iscriviti